Dallo stadio olimpico in Torino Juve Palermo per non perdere il passo, buonasera da Fabio Charesa e Beppe Bergomi. Cerca il destro, agli ardi sicuro, è una bella punizione questa della Juventus. Può batteria quinta, va, ancora agli ardi. Altro calcio d'angolo per la Juve, secondo palo, la pallariva lì, Davi! Tresegui! Tresegui! 1-0! Metti una palla che vaga in aria e arriva Tresegui. Trentatresimo, la Juve è passata in vantaggio con Tresegui. Viava, per la quinta che gli va le spalle, bravo, dobbiamo chiudere! Legglie il plazzagli, che salva di fatto un gol perché agli ardi era fuori porta. Traversione di Camoranesi, cerca lentissimo la quinta, Vincenzo! Via, quinta! 2-0! E' uscito Barzagli, arriva il traversone sul primo palo, si era fatto vedere Mocerino, poi c'è Medved che prova di controbalcio. Era buona l'idea, palla sul fondo. C'è caduto il primo palo, Barzagli, prolunga, Cavani, Buffon! Dentro con lo solido Iaquinta, Tresegui, colpo di testa sul fondo, aveva trovato il tempo giusto per lo stacco, forse Criscito, forse Iaquinta. E' pronto attraversione, Pisano, c'è Amaury, colpo di testa sul fondo di niente, grande colpo di testa in controtempo di Amaury. Va in copertura Barzagli, bel duello 3-2. Barzagli, Iaquinta, Iaquinta con la spalla, alla meglio Iaquinta in area di rigore, Tresegui cerca di liberarsi e poi c'è calcio d'angolo. Molinaro ha toccato Medved, Molinaro deve tenere il pallone in campo, prova a servire ancora Medved. Il tacco ancora per Molinaro, prova a passare internamente Molinaro, Diana Molinaro verso il centro! Non c'era Tresegui. Alex! Del Piero! 3-0! Questo deve essere l'atteggiamento di Del Piero, entrare quando parte dalla panchina ed essere decisivo, col sorriso sulle labbra. E' Juve che arriva in contropiede, Del Piero in posizione regolare, partito dalla somme da campo, c'è Tresegui in mezzo, Del Piero l'ha visto, eccolo il pallone per Tresegui, Marchionni! Marchionni! Marco! Marchionni! 4-0! Neved calcio di rigore! Aveva saltato Biava! Eh sì, perché è stato bravo, ha fatto finta di calciare e gli ha fatto proprio il pallonetto sopra. Alex! Del Piero per il 5-0! E anche l'ultima...